Fabrizio Nocera ha scritto un libro dedicato all'Abruzio e al Molise, gli studi più recenti, dimostrano che questo mezzogiorno nella storia della campagna d'Italia, nel cuore della seconda guerra mondiale è stato pienamente inserito, ha subito un impatto traumatico, è stato protagonista di altre tragedie, ma anche di quel percorso di rinascita dei valori democratici che si ancorano alla storia della resistenza italiana. Sono oltre 4100 note che però danno l'approfondimento, quindi io rispondendo alla tua domanda direi che ci possono essere anche due filoni di lettura, quello narrativo, io leggo tranquillamente il libro senza le note e quello un po' più di approfondimento. Ecco, io credo che questo sia il modo migliore per incastrare in qualche modo questo bel volume di oltre 600 pagine in quella che è stata la resistenza, perché fondamentalmente poi dà un altro dato, che la resistenza in Abruzzo, e questo l'aveva già detto Costantino Felice sin dal 1993 è stato un fenomeno di primo ordine. Credo che il principale merito di questo tipo di libri è quello di dare un contributo nuovo a quello che a me sembra uno dei grandi temi della cultura italiana di questi anni, e cioè il rapporto con la propria memoria.